quello dice che tu sei il boss di Torri annunziato ma perchè ne ho vero? e mica hai scritto una stronzata? ah si? a me un po' il giornale non mi piace no invece è buono vanno a leggere tutto quanto tutto quanto non sapete chi è Valentino Giove io prima è Bartellino a chi lo stronzola davano in una botta o cosa? bravo